Raccogliamo il primo successo della stagione, una bella medaglia per la nostra telececcarelli, raccontaci questa sfida. Sì, è un argento che poteva tranquillamente essere un oro, ma per un fatto di emozione probabilmente è stato solo un argento. Come procede la stagione? Bene, bene. Secondo me quest'anno con i nuovi atleti si possono ottenere grandi successi. Ecco, diciamo che comunque tu hai già raggiunto il traguardo della cintura nera. Quali sono i tuoi prossimi impegni e i tuoi prossimi obiettivi? Sicuramente il secondo danno e poi si può pensare ad ottenere un tesoro italiano, magari un podio arrivato italiano. Che tempi ci abbiamo per raggiungere questi obiettivi? I tempi sono infiniti, da qui fino a che il cuore non me lo dice. Qual è il segreto che vogliamo dire a coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina? È tenere duro e l'importante è la passione, con la passione si riesce a fare tutto.